45 anni di impegno a servizio della comunità, la sezione Avis di Campodoro festeggia domenica l'anniversario della sua fondazione con una festa nel rispetto delle norme anti-covid. Alle 9.30 ritrovo nella piazza del paese, poi il corteo fino al monumento dei caduti percorrendo via Villa Franca fino al municipio, poi alle 11 l'inaugurazione del monumento in piazzetta Europa e la messa. Per partecipare all'evento sarà necessario il Green Pass, presente anche l'amministrazione comunale.